ciao a tutti arcetti sono orcuverde in questo video volevo informarvi riguardo una manutenzione dei server psn in arrivo programmata da sony prima di iniziare vi invito a condividere e lasciare un bel mi piace al video e di seguirmi sui social trovate tutti i link nella descrizione e iniziamo subito se in questo momento vi recate sulla pagina dello stato dei server psn ci sarà scritto questo inizio il 28 agosto alle ore 6 e fine il 28 agosto alle ore 6 e 30 il 28 agosto sarebbe questo martedì perciò questa manutenzione inizierà martedì 28 agosto alle 6 di mattina e terminerà dopo mezz'ora alle 6 e 30 se premete su dettagli a destra comparirà questa schermata con scritto piattaforme coinvolte ps4 ps3 web e altro servizi coinvolti playstation network verrà sottoposta a manutenzione ordinaria e interventi di miglioramento per circa mezz'ora alle 6 alle 6 30 fuso radio locale di martedì 28 agosto chi ha già un account può comunque accedere al proprio profilo playstation network giocare e usare la maggior parte delle applicazioni anche durante la manutenzione non sarà invece possibile accedere a playstation video playstation store playstation music account management gaming and social playstation nov e playstation vu ci scusiamo per il disagio ti consigliamo di attivare la tua ps4 come console principale prima dell'inizio della manutenzione in modo da poter continuare a giocare alla maggior parte dei giochi e autorizzare servizi di terzi durante la manutenzione per attivare la console accede al tuo profilo playstation network e seleziona impostazioni poi gestione account attiva come ps4 principale e attiva ti basterà farlo una sola volta facciamo il possibile per assicurare che i servizi playstation network siano sempre disponibili tuttavia di tanto in tanto dobbiamo mettere playstation network offline per eseguire interventi di manutenzione essenziali e per implementare miglioramenti alle funzioni cerchiamo di ridurre al minimo la durata di ogni intervento questo è tutto quello che sony ha specificato riguardo questa manutenzione che inizierà alle 6 e terminerà alle 6 30 della mattina di martedì 28 agosto se ci saranno altre notizie novità e informazioni ve le porterò sempre sul canale quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video poi seguitemi sui social trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e da orco verde tutto noi ci vediamo prossimo video bella